Carissimi, abbiamo colto con gioia l'invito del nostro Presidente Nazionale Alberto Finizio di fare questo breve video, soprattutto per salutarci e per sentirci un po' più vicini, visto che questo era veramente un periodo molto bello e importante per tutti noi, dove ci potevamo incontrare, abbracciarci nei nostri congressi nazionali.